Quattro bar della città sono stati passati al setaccio nella serata di giovedì nell'ambito dei controlli disposti dal questore Pietro Ostuni. L'attività di un locale nella zona di Viale Dante è stata sospesa in quanto all'interno è stata riscontrata la presenza di due lavoratori irregolari. Il bar potrà riaprire subito dopo la regolarizzazione. In un altro locale è stato sorpreso un sessantenne piacentino sottoposto agli arresti domiciliari che è stato dunque denunciato. Inoltre è stata elevata una sanzione per il mancato rispetto delle normative sulla conservazione di alcuni alimenti. Sanzioni anche per un bar della zona di Via Colombo a causa di alcune irregolarità relative alla stufa a pellet. Tutto regolare invece in un bar di Via Alberoni. All'operazione hanno partecipato polizia, guardia di finanza, polizia municipale, ASL, ispettorato del lavoro, oltre 100 le persone identificate.